Quest'anno abbiamo avuto questa idea, penso molto positiva, di partecipare con un equipaggio misto. Acqua e fuoco in Barcolana. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco partecipa alla regata velica d'autunno con un equipaggio che unirà l'esperienza di quattro vigili del fuoco con l'entusiasmo di quattro giovani velisti dei circoli velici triestini e una barca con un palmarès di tutto rispetto. Noi abbiamo pensato davvero di unire l'esperienza, il lavoro che quotidianamente facciamo anche per mare e per garantire la sicurezza non solo dei natanti ma anche delle persone che godono, che fruiscono il mare tutto l'anno con la freschezza e la voglia e l'entusiasmo dei giovani velisti qui triestini. È una barca che ha vinto il mondiale, che ha vinto la sua classe nell'Admirals Cup, che ha vinto le più importanti regate a cui ho partecipato e che ha visto praticamente il debutto e la crescita di velisti come Paul Cajard, De Angelis. L'auspicio di questa imbarcazione, di questa iniziativa è proprio quello di accompagnare, di augurare ai ragazzi di raggiungere veramente risultati importanti, ma non dimenticando mai che per il marinaio la cosa più importante in assoluto è ritornare sempre a terra. Per noi è un'opportunità e anche un momento di convivialità perché la messa in sicurezza con i giovani in un ambiente, un territorio è importante per dare un futuro alle nostre generazioni, quindi è importante per noi partecipare, essere presenti, dare anche il contributo ovviamente a questa iniziativa e sperare anche di arrivare in buona posizione, non dico primi ma secondi sicuramente.